Monti alla Borsa di Milano, il discorso del Premier a Palazzo, mezzanotte ancora Monti alla Borsa di Milano, le reazioni dopo un intervento del Premier, le proteste dei benzinai, tutti molto critici sulle liberalizzazioni, polemiche su autovelox, a Pavia i consumatori denunciano gli agguati, esplosione gas, tragedia scampata è accaduto a Broni, grave una donna. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro notiziario che apriamo con l'importante visita del nostro Premier Mario Monti a Milano, alla Borsa italiana a Palazzo Mezzanotte, il discorso importante che ha avuto come parte principale la riforma del lavoro che dovrà essere completata entro marzo. Servizio. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha incontrato i big della finanza italiana alla Borsa di Milano per fare il punto sulle misure che l'esecutivo intende mettere in campo e ha rilanciato il lavoro del Governo sulla riforma del mercato del lavoro. Come il Ministro del Lavoro Elsa Fornero e io stesso abbiamo più volte dichiarato, siamo molto fiduciosi che entro il termine che ci siamo dati di fine marzo potremo presentare al Parlamento un provvedimento con l'accordo delle parti sociali. Lo presenteremo comunque, speriamo di presentarlo con l'accordo delle parti sociali. Il tema è troppo importante perché possiamo consentire poteri di blocco troppo paralizzanti e questo soprattutto perché una parte non seduta a quel tavolo, che è quella dei giovani, compresi quelli che non sono ancora nati e che è la nostra vera constituency di noi che non siamo stati eletti da nessuno ma largamente approvati dal Parlamento con la fiducia, quella è la nostra constituency. Sì, non vogliamo ripetere situazioni in cui chi fra qualche anno, per carità, fra qualche anno ma a cominciare comunque al più tardi dalla prossima primavera, non voglio essere equivocato, governerà, possa dire ah, dobbiamo rimediare a politiche poco lungimiranti del passato. In base all'accordo positivo raggiunto dal Comune di Milano con le banche sui derivati, proprio Palazzo Marino annuncia che non incrementerà l'addizionale IRPEF per l'anno in corso. Un annuncio importante che è stato fatto direttamente dall'assessore al bilancio di Palazzo Marino. Sempre rimanendo in tema la visita di Mario Monti a Palazzo Mezzanotte, ascoltiamo nel prossimo servizio le reazioni delle persone presenti all'incontro di quest'oggi appunto alla Bolsa Italiana. Vediamo. Questa mattina il capo del governo, Mario Monti, nel corso di un incontro con la comunità finanziaria Piazza Fari a Milano, ribadisce che non ci sarà bisogno di una nuova manovra. Il governo infatti punta a portare entro marzo in Parlamento un provvedimento sul mercato del lavoro, anche senza l'accordo con le parti sociali. Molte le reazioni positive della comunità finanziaria dopo l'incontro. Il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, annuncia niente d'abù sul lavoro e invoca una riforma coraggiosa chiesta dall'Italia, anche dall'Europa. Il passaggio sulle necessarie riforme del mercato del lavoro, quando con saggezza Monti ha detto cerchiamo l'accordo delle parti sociali ma non ci faremo condizionare da quello. Come è stato fatto per le riforme, la riforma del mercato del lavoro va fatta perché è essenziale per dare un futuro ai nostri giovani, per dare più occupazione. Monti durante il suo discorso è apparso attento anche ai giochi di potere che spesso ruotano intorno a piazza affari e il presidente Formigoni ribadisce compattezza politica per il 2013. Io mi auguro, come ha fatto Monti, anzi sono certo che nel 2013 riprenderà la dialettica politica che è il sale della democrazia, ma potrà riprendere non con toni da nemici che vogliono ammazzarsi reciprocamente, ma da programmi alternativi che si confrontano tra di loro. Parliamo ora della notizia di un suicidio di un detenuto di 21 anni nel carcere di San Vettore, Alessandro Galelli, questo è il nome del giovane suicida che era accusato di violenza sessuale e stava appunto in carcere a San Vettore da quattro mesi in attesa naturalmente del giudizio. Prossimo servizio che arriva direttamente da Varese, perché c'è la protesta, la manifestazione da parte dei benzinai del Varesotto che si scagliano contro le liberalizzazioni. Ascoltiamo i loro commenti nel prossimo servizio. Ancora rincari sulla rete dei carburanti e nuovi record per benzina e diesel. La verde sfonda tranquillamente l'euro e 90 centesimi al litro al centro Italia, ma sale anche il diesel oltre l'1,77. La realtà in queste fasi di aumento risulta molto differenziata tra nord e sud, con punte minime nel nord-est, dove la competizione rimane più forte che nel centro e nel sud. Anche l'enologo in sofferenza per via delle pressioni dei mercati internazionali è costretta ad aumenti che accorciano così la distanza con gli impianti a marchio tradizionali. La Lega appoggia questa protesta, come ha appoggiato nei mesi scorsi e continua ad appoggiare quella dei camionisti, dei tassisti, dei commercianti, di tanti componenti dell'artigianato, perché questo governo è un governo dei grandi contro i piccoli. In questo caso nei benzinai è il governo delle grandi compagnie, delle banche che strozzano e hanno rimesso ad esempio il costo per il banco, ma per chi paga con la carta di credito la benzina, che strozza e distrugge e cerca di far danni al piccolo. Non è possibile che a pagare siano sempre i soliti, quelli che lavorano e che mantengono con le loro tasse questo paese. Per quanto riguarda le liberalizzazioni, chiediamo semplicemente che venga fatto veramente una vera liberalizzazione a tutta la rete, non solo a 500 impianti su 26.000. Per quanto riguarda la carta sconto abbiamo due o tre cosette ancora in campo, ormai da tempo, uno è lo sconto flessibile, due è l'allargamento anche al diesel e tre è probabilmente oggi siamo in una situazione da poter reintrodurre, come fu fatto all'epoca, una terza fascia. Il prezzo del carburante è salito negli ultimi mesi in maniera assolutamente inaccettabile. Noi dobbiamo cercare di mettere sotto controllo il costo del carburante per il cittadino, per le famiglie, per le imprese. Allora cosa bisogna fare? Bisogna introdurre maggiore competizione in modo che un distributore possa chiedere ai produttori di carburante di competere sul prezzo. Dobbiamo intervenire sull'allargamento della fascia della carta sconto e anche l'allargamento al gasolio della carta sconto stessa. Dobbiamo chiedere un aggiornamento molto più frequente del collegamento con il costo della benzina e del gasolio rispetto alla vicina Svizzera in modo tale da gestire la carta sconto in maniera molto più efficace rispetto a quanto viene fatto in questo momento. Parliamo ora in questa notizia di ladri acrobati in una villa di Meleniano, un blitz, da questa appunto villa dove sono spariti soldi e numerosi preziosi, blitz che tra l'altro è scattato nella nottata di sabato. I ladri poi sono fuggiti rapidamente facendo perdere le loro tracce. Ci spostiamo ora a Pavia per parlare di una denuncia di consumatori riguardo ad un autovelox che ha firmato per così dire più di 4.000 multe per eccesso di velocità, multe che poi sono state consigliate direttamente agli interessati che ha scatenato la protesta dei consumatori di servizio. Almeno il 50% delle multe recapitate agli automobilisti con autovelox appaltati a ditti esterne mediante la tecnica degli agguati utilizzati nel far west e nei sistemi incentivati, più multe e più eccessi sia per il comune che per le ditte appaltatrici sono annullabili e i punti persi sulla patente recuperabili. È un problema che affligge molti automobilisti ma che ha sollevato una particolare sensibilità in Pavia e provincia. ferma su questo punto la fede dei consumatori. È vero, l'uscita dalla strada del Cassinino sulla statale era effettivamente un'uscita infelice che poteva e ha prodotto anche danni seri. Lì era necessario intervenire con una messa in sicurezza. C'era una petizione dei residenti che il sottoscritto ha personalmente firmato condividendo l'obiettivo espresso dai residenti di chiedere al comune interventi di sicurezza. Ma i residenti non dicevano che bisognava installare un autovelox chiedevano sicurezza all'incrocio. È la scelta del comune che ha deciso per l'autovelox. Il comune poteva modificare la viabilità. Non l'ha fatto per ragioni economiche, ha scelto l'autovelox, bene, per l'amore del cielo. Opinabile quanto vuole, ma è una scelta del comune, lo ripeto. La questione qual è? È che quando si sceglie di mettere un autovelox o qualsiasi altra apparecchiatura che dà le sanzioni in modo automatico, bisogna rendere la situazione chiara. Preavvertendo gli automobilisti, questo era l'obiettivo del Ministero dei Trasporti di 5 anni fa, preavvertendo gli automobilisti che lì c'era una situazione di reale pericolo e se non rallentavano o non prestavano attenzione, potevano essere sanzionati. Avvertire significa mettere dei segnali visibili, che a 150 metri di distanza si veda che c'è un cartello che preannuncia che poi c'è l'autovelox. Se il cartello non si vede e viene nascosto oppure viene fatto in modo piccolo, ecco che questi diventano dei piccoli trucchi per fare in modo che l'autovelox funzioni a pieno regime. Qui c'è un problema. Se l'autovelox in pochi mesi, due se non mi sbaglio, ha già elevato a qualche comune 600-700 contravenzioni, vuol dire che o gli automobilisti sono degli emeriti imbecilli, dei deficienti, quelli che passano lì, oppure effettivamente non vedono i cartelli di premonizione. Allora un saggio detto dei nostri vecchi dice prima bisogna prevenire e poi bisogna reprimere. Allora il comune installa i cartelli, segnali luminosi, preavverta che c'è un autovelox in debito moto, in modo da evitare che la gente di fronte a quell'incrocio magari vada a 100 all'ora, cosa che non si può fare. Quello che noi chiediamo è chiarezza di comportamento e situazioni che rindono l'automobilista edotto di quello che fa. Poi è responsabilità dell'automobilista e se non lo fa deve essere sanzionato. Un altro servizio che ci arriva dalla provincia di Pavia. Due bambini di origine nordafricana, marocchina, hanno provocato un'esplosione in casa a Broni, un comune alle porte del capoluogo pavese, provocando il ferimento della madre. Servizio. Un'esplosione vicino al fornello del gas e la padrona di casa è rimasta ostionata al volto ad un braccio una donna marocchina di 36 anni che guarera in una ventina di giorni. L'esplosione è avvenuta al sesto e ultimo piano di un palazzo delle case popolari di via Gramsci a Broni. Ci sono stati attimi di panico, gli altri inquilini si sono precipitati fuori nel timore che ci fossero altre esplosioni. I vigili del fuoco hanno poi staccato il gas in attesa di scoprire la causa precisa di una detonazione che avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi. Qualcuno ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I primi ad arrivare in via Gramsci sono stati carabinieri. Due militari si sono precipitati al sesto piano per rendersi conto delle condizioni degli inquilini che sembra non siano usciti di casa. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 di Pavia. La padrona di casa è stata sottoposta alle prime cure sull'ambulanza ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia. Qui i medici hanno potuto verificare che le ostioni non erano gravi anche se il dolore al volto era molto forte. è stata medicata ed è stata subito dimessa. Intanto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento del sesto piano. Ora parliamo di un servizio che arriva dalla provincia di Milano perché a fine di maggio, inizio di giugno sarà la giornata mondiale delle famiglie e quindi la visita del pontefice Benedetto XVI a Cinisello Bals. Ma proprio per riguardo abbiamo intervistato il sindaco del comune alle porte di Milano, Daniele Gasparini. Vediamo. Le celebrazioni della giornata mondiale della famiglia si svolgeranno da giovedì 30 maggio a domenica 3 giugno. Benedetto XVI presenzierà alle cerimonie che nella parte conclusiva si svolgeranno nel grande spazio del Parco Nord. L'organizzazione, che vede protagonisti Vaticano, Diocesi di Milano e Regione Lombardia, è già in moto, ma c'è lavoro anche per i comuni di Bresso e di Cinisello Balsamo. Io credo che sia così, come della vita, gli eventi segnano dei pezzi di una storia e credo che era avere quel Papa, cosa che per alcune volte viene a Milano un Papa. Beh, insomma, credo che sia da questo punto di vista un'occasione interessante di cui la gente credente e non credente parlerà e sarà un evento collettivo. In più, si parla di famiglia di lavoro e così come dicono gli organizzatori della manifestazione, vuole essere una festa laica. Nel senso che comunque, attorno all'evento principale, che ovviamente è la Messa del Papa e anche la Veglia, ci saranno iniziative, manifestazioni, incontri. Insomma, per circa cinque giorni queste città saranno un villaggio globale perché arrivano le famiglie da tutto il mondo e quindi può essere un'occasione di conoscenza e di mescolanza che secondo me è una cosa molto bella, affascinante, in un momento come questo in cui si ha paura di tutto e il fatto di essere invasa dal mondo può essere anche un'occasione per reagire. Domenica 3 giugno, la giornata clou quando il Papa presiderà la Messa al Parco Nord. È tutto per questa sezione, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.